Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, scusatemi per l'abbassamento di voce Siamo tornati qua nel nostro quarto episodio in Europa Universalis 4 Con la nostra campagnetta con la castiglia L'ultima volta ragazzi eravamo andati a vedere a fare l'alleanza e il matrimonio con Navarra e il Portogallo Quindi sia Portogallo che Navarra abbiamo fatto entrambe due matrimonio e alleanza Stavamo portando giù questa truppa nella regione di Murcia Per circondare appunto Granada Qui andiamo a... Possibilmente volevo portare qui un generale Allora ragazzi sono successe un po' di cose dall'ultima missione, dall'ultimo episodio Perché anzitutto dovete sapere che come potete vedere il computer sta andando di male in peggio Infatti da qui a un mese devo prendere il nuovo computer Infatti mi si sta bloccando Possibilmente io qua vorrei provare a cercare un generale Vediamo se ce n'è qualcuno Sì lo so che mi costerà 50 di punti militari E un altro Alvaro Un altro Alvaro va bene perfetto abbiamo trovato un altro Alvaro Alvaro In realtà è Alvaro che è risolto dalla tomba perché non poteva stare zitto e non cantare Allora ragazzi Sì sono successe Intanto facciamo andare il tempo Sono successe diverse cose Soprattutto diciamo che a parte essere sudato fradicio per il caldo che c'è E ho preso anche un abbassamento di voce con l'aria condizionata come se non bastasse E o poi non so quanto la porterò avanti questa campagna con Europa Universalis Io infatti come ho detto è una prova Sto facendo una prova Più che altro vorrò fare qualche altro episodio di World of Warship E poi sarò in aspettazione in procinto appunto ragazzi Tra l'altro mi sto sforzando a parlare Sarò appunto in procinto Di iniziare la nuova grande campagna come pronunciato dal video dell'altro giorno Con Warhammer 2 Il grandissimo titolo Benissimo ci hanno detto questa cosa qui Abbiamo fabbricato questa cosa con Aragona Ah no Forse questo cos'è Forse il matrimonio E' probabile che il matrimonio Adesso non riesco bene a capire ma Se non è questo il matrimonio è più avanti Comunque ragazzi niente In questa nostra campagna proveremo appunto ad attaccare Granada A provare a rinunificare la Spagna E magari provare a fare qualcosina qui in Francia Che vedo che effettivamente è scoppiata Un'ennesima No vabbè Oltre alla guerra dei cent'anni che c'è adesso L'ennesima scaramuccia appunto tra la Francia e l'Inghilterra In cui adesso la Francia pian pianino si sta riappropriando Delle colonie inglesi in suolo francese Ci ricordiamo che anche qui in Provenza Quindi Dove è Marsiglia fondamentalmente Era successo qualche scaramuccia Ok io fondamentalmente volevo Andare a prendere Tanto quanto Non tanto quanto i missionari Ma Più che altro Si i mercanti che ne avevo Uno qui probabilmente qui a commerciare E l'altro È Qua da qualche altra parte Non mi ricordo Ah si l'avevo richiamato E quasi quasi volevo portare Volevo portare appunto Anzitutto Anzitutto Chi ha Fermi Allora fermi Allora fermi Fermi Anzitutto E Volevo andare a vedere qui La nostra flotta Per partire verso l'esplorazione nordica Si sta costruendo Poi Chiamata alle armi Dunque La nazione del Portogallo Che è fidata a te Ti chiede di entrare in guerra Contro il Marocco Questa guerra Ha inizio appunto Però perdo 25 di prestigio E Se declino Cosa faccio? Cosa succede? Se declino Secondo me Perdo Se no Altrimenti Posso vedere altre cose No Questo qui non serve Sedi Veramente la puntata di oggi ragazzi E per me è uno strazio Perché La sto facendo con pochissima voce E Non saprei cosa fare Però potrei Potrei provare ad accettare In modo da creare Una prima colonia in Marocco Quindi Per il momento accetto Così Che cosa succede? Noi entriamo nella nostra prima guerra Ok Entriamo nella nostra prima guerra Qui andiamo a unificare Tutti i nostri soldati Adesso non mi ricordo bene Come si faceva Penso Dunque dunque Come si Mi sono scordato Come si unificavano i soldati Interessante No No Questo qui è il generale Vabbè Ci guardiamo più avanti Momento di silenzio I grilli Allora Come stavo dicendo Qui sta appunto Si sta costruendo la nostra flotta Intanto il tempo va avanti Noi siamo in guerra Contro il Marocco Allora niente Facciamo che Intanto io direi che contro il Marocco Gli proviamo a portare qualcosina Qualche Magari portiamo qualche Nostro soldato al sud In modo che Se proprio ci dovessero attaccare Adesso qui non mi ricordo Come si fa A congiungere Tutti i soldati in uno Ma chi se ne frega E Mi scoccio a perdere tempo Sono sudato fradicio letteralmente E qui intanto abbiamo Abbiamo appunto Circondato Granada Che a quanto pare A quanto pare Non si sa come Non si sa perché Ma Molto stranamente Ha disciolto il suo esercito Non so se ha preso una nave E ha scappato Perché ha capito Che non c'erano speranze O qualcosa del genere E Intanto Il tempo va avanti Se possibile vorrei Arrivare al 1480 Così finisco Il La tregua Con sta Granada Che Sinceramente Mi scoccio un po' Ecco Intanto Intanto Potrei Fargli Come mi hanno detto Qualche dispetto In modo da Peggiorare Le nostre situazioni In modo che Se non io Comunque da qui a poco Sarà lei A dichiararmi guerra E Ragazzi Comunque come detto Tra l'altro Oltre che avere Un abbassamento di frucia E essere bagnato Fradicio Perché Fa caldissimo E Purtroppo Come ho detto Il mio computer Da qui a poco Mollerà E Quindi Sarà questione Di giorni Già oggi Mi è dato un problema grave Che ho dovuto risolverlo Ripristinando il computer E Fortunatamente Con i dati Che erano rimasti Se no A quest'ora Non avevamo questa campagna E Purtroppo In questa campagna In questo episodio Non potrò fare tanto Perché sto aspettando Che la nave Si costruisca Qui il tempo va avanti L'unica cosa Che posso fare E fare appunto Un po' di diplomazia E Anche Mandare appunto Il nostro Il nostro Famoso Secondo mercante Appunto Qui Nel nodo di Provenza Che volevo mandare Da tanto tempo Quindi Ci portiamo appunto Ignacio Galvares E Portiamo quello più vicino Portiamo Valeriano Benissimo Perfetto Che lo portiamo appunto Qui nel nodo Della Provenza In modo da raccogliere Diversi Dindini Qui In teoria È già nostro Quindi Volendo potremo Anzi ecco Possiamo spostare Possiamo spostare Appunto Il nostro Mercante Da dov'è Qui Alle Da queste isole Dalle Tenerife Tra virgoletta Le chiameremo così A questo nodo Quindi Valeriano Andato a Genova E qui ci portiamo Ignacio A Ignacio Allora Va bene Momentaneamente Non stiamo Riscontrando problemi Ecco Stranamente È comparso L'esercito Di Granada Che si sente In un certo senso Molto Molto Circondato E vediamo Se posso fare Qualcos'altro Intanto Così Allora Abbiamo un bilancio Di più 2,4 Se è possibile Volevo alzarlo Ancora un pochino Però Momentaneamente I nostri Due Commercianti Sono già stati Spediti Quindi va bene Ecco Proviamo a costruire Magari Nelle città più grandi In modo che ci sia Un maggiore incremento Qualcosa Magari Proviamo a costruire Che ne so Qualche Qualche cosa Qualche Struttura Per così dire Commerciale Momentaneamente Non abbiamo Tanti soldi Perché ci servirebbero Più soldi Per costruire Quindi aspettiamo Magari Che poi tra l'altro Siamo anche in guerra Come abbiamo detto E Non so Non saprei Cosa fa Qui in teoria Fermiamo un attimo Il tempo Ok Allora Sickness of King La malattia del re Da che traduco Non lo so Allora Possiamo Perdere Le tasse Modifiche Del meno 10% Oppure Mensile L'autonomia Un cambio Mensile D'autonomia Però Effettivamente Vedo Che Il male minore Sia questo Appunto Quindi Deleghiamo Altre province E Facciamo Appunto Il male minore Non me la sto cavando bene Questa campagna Lo so Lo immagino Ma Come ho detto Ci sto provando Ah Ma qui avevo Una flotta Ma non me ne ero accorto Ma che stupido La portiamo subito Ma non me ne ero accorto Che avevo una flotta Due flotte Addirittura Ma non ci posso credere Allora Questa qua La portiamo Assolutamente Al nord Quest'altra Da 8 Invece la portiamo qui In modo che Se riusciamo a portare Queste truppe Da Cadiz A Appunto Alle coste Marocche E Proviamo appunto A creare una nostra Prima colonia Purtroppo Per questo episodio Non c'era da fare tanto Ragazzi Perché d'altronde Dobbiamo aspettare Perché ho messo in pausa Accidente Adesso mando avanti Di 5 E per il resto Qui le tecnologie Dobbiamo ancora un po' Scoprirle Perché dobbiamo appunto Prendere diversi punti Diplomatici Amministrativi Militari Ah Fermi tutti Ok Possiamo richiamare Il diplomatico O manteniamo Il diplomatico A Venezia Bah Io direi di richiamarlo Magari in una prossima Missione Lo mandiamo Da qualche altra parte Sì lo richiamiamo Ecco Così possiamo fare Un improv relation Con magari Con magari Il Lo stato papale Quindi facciamo Un improv relation Ah no 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 È vero Devo fare L'improv relation Con granada Assolutamente Però se non mi fa fare nulla Allora è anche inutile È inutile granada Va bene Allora proviamo a fare Un improv relation Appunto Con Con lo stato papale Facciamo Economy action Send gift Loan offert No Facciamo Un Vediamo cosa fare Vediamo cosa fare Niente Ah abbiamo Calma 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 Allora Ah nello stato papale Ce l'avevamo già Allora Richiamiamo due diplomatici Ne portiamo Uno qua Facciamo Anzi Facciamo Un embargo Se possibile A granada Olè Perfetto Sì E facciamo 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 Qualcosina Qui direi Con Con Genova No Vorrei provare a fare Qualcosina Qui Con Con Tunisi Siccome è abbastanza grande Vediamo cosa possiamo fare Vediamo cosa possiamo fare Un cavolo Porca miseria E Altrimenti Non possiamo fare qualcosa Con l'Aragona Che ne so Qualcosa di Di carino Siccome Tra poco ci dovremmo sposare Niente Non possiamo fare nulla Vabbè Niente ragazzi Per oggi è andato abbastanza Già avanti Il video Io direi che Possiamo fermarci qua E Niente Porto avanti il tempo Come al solito Se vi è piaciuto Questo episodio Che purtroppo Non abbiamo fatto nulla Perché non c'era Tanto da fare Mettete un bel like Se non siete ancora iscritti Al canale Iscrivetevi Questo come detto È una prova di campagna Però diciamo Che lo sapete Che la maggior parte Io porto appunto Con i Total War E Niente A questo punto ragazzi Qui tra l'altro Ah Siamo riusciti A bloccare il porto Fantastico Quindi Facciamo anche un embarco Militare Al Marocco Comunque Noi a questo punto ragazzi No Manteniamo il diplomatico Ci vediamo Quindi al prossimo video Grazie E ciao a tutti Speriamo che la nostra flotta Sarà pronta Al prossimo video Ciao a tutti